Ciao ragazzi, nuovo video, gavette, miscatelle per il rancio, barracce, altra pentola, gavetta, firmata, me andy, me, ml, p, ml, nu, gann si capisce bene, Borraccio inglese, gavettino, e anche la resta è benedita. c'è una incisa all'interno c'è il gavettino e qui abbiamo il borraccio, no eccola qua, dovrebbe essere questa incisa, parte da trincea, eccola qua, bella, mirabelli, lucio, ricordo, mamma, manica, di manica larga, bellissima, e qui c'è un uccello, bel pezzo, ragazzi iscrivetevi al canale per aggiornamenti sui nuovi video, ciao raga